In Italia oggi ci sono circa 2,3 milioni di ettari ad arboricoltura, tra fruttiferi, agrumi, olive, vite da tavola e vite da vino. Le pratiche della potatura e dell'innesto sono due pratiche agronomiche importantissime che richiedono per questo mano d'opera qualificata. Troppo spesso oggi purtroppo questo non avviene. Con questa proposta di legge puntiamo a qualificare queste due figure professionali, ottenendo così due vantaggi, sia per il lavoratore che per il produttore. Il lavoratore avrà la possibilità di avere una qualifica spendibile nel mondo del lavoro. Il produttore potrà approcciarsi con una mano d'opera qualificata che gli consentirà così di migliorare nettamente la propria produzione. Una volta ottenuti vantaggi agronomici ed economici, si otterranno di conseguenza vantaggi ambientali e paesaggistici, chiudendo così il triangolo della sostenibilità. Adesso tocca a voi esprimervi su questa proposta, per cui attendo come sempre i vostri suggerimenti.